eccolo vedete questo è paolo 45 anni un lavoro di merda pagato a voucher e una moglie convinta di poter vincere masterchef con due carote lessate avrebbe continuato così per sempre se quella volta lei non avesse avuto l'unica grande intuizione della sua vita amore questa sera andiamo a cena fuori a remi provi nostri ravioli di erbe con mongole strigoli dagli autori della marianna e dallo zio un viaggio ultrasensoriale che cambierà per sempre il vostro rapporto con il cibo o come l'impressione che paolo si è cambiato dici e da che cosa hai capito per trasformarvi in raffinati sommelier un film fatto di sapori e profumi della nostra terra popolare come un sardoncino marinato elegante come una tartare di tonno ehi non sono abbastanza figo enrica mancini giuliano canzian michele sievi registi ed interpreti di una storia d'amore che finisce amore io non ti amo più e una che inizia oh ma mica con me amorimini quando la realtà può essere meglio di un film tutti i giorni sul lungomare murri al numero 15 di un film 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 di un